Musica Domenica 6 settembre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise, apriamo con la sanità, hanno lavorato con il bottone nero sui camici in segno di lutto e la protesta silenziosa messa in atto dagli operatori sanitari contro lo smantellamento della sanità molisana attuata dal commissario ad acta frattura del Governo nazionale, Anna Maria Di Matteo. La sanità pubblica molisana sta morendo di una lenta agonia e gli operatori del settore hanno lavorato con il bottone nero sul camice in segno di lutto. Un simbolo per ricordare lo stato in cui sono finiti gli ospedali della regione, alcuni chiuderanno, altri saranno fortemente ridimensionati. Conseguenze dell'attuazione del decreto Balduzzi a cui la regione non si è opposta a tempo debito è colpa dell'azione scellerata del commissario ad acta Paolo Frattura che pur di ripienare il deficit sanitario sta tagliando in maniera indiscriminata i servizi al personale, svuotando progressivamente gli ospedali di ogni cosa, dalle cure, dalle prestazioni al personale medico, infermieristico e ausiliario. Stiamo assistendo al decesso della sanità pubblica, neppure troppo lentamente ha dichiarato con preoccupazione Pasquale Gianquitto, responsabile Will Sanità del Basso Molise. Dobbiamo fare il triplo del lavoro con mansioni che non ci competono, siamo preoccupati per la qualità dei servizi che si riducono o si chiudono. Un allarme lanciato da mesi dagli operatori sanitari ma che al momento è rimasto inascoltato. Così va avanti lo smantellamento dei reparti, mentre le corsie degli ospedali rimarranno sempre più vuote. Entro fine anno centinaia di infermieri, di medici, di ausiliari saranno rimandati a casa perché i contratti in scadenza non saranno rinnovati. Le conseguenze sull'assistenza ai malati sono immaginabili, così come sono immaginabili quelle sui operatori che resteranno al lavoro. Turni massacranti, ferie permessi revocati, condizioni di lavoro al limite. In tutto questo disastro la regione immobile, indifferente di fronte allo sfacielo di un settore fondamentale per la vita dei cittadini, un silenzio colpevole del commissario ad acta frattura che continua dritto sulla propria strada lasciando dietro di sé solo distruzione. E i molisani, quei pochi fortunati che potranno farlo, andranno a curarsi altrove. Gli altri, in più, saranno abbandonati al loro triste destino. E sulle polemiche legate alla mancata sosta a Termoli del Frecciarossa Bari-Milano interviene il senatore Ulisse Di Giacomo. Ci sfiora il dubbio che la segreteria regionale del PD ci voglia prendere in giro, scrive Di Giacomo. Hanno contrattato con l'ANAS la chiusura della società autostrada del Molise. Hanno deliberato la revoca del finanziamento per l'abbio dei lavori del primo lotto per destinarli alla ridicola metropolitana leggera tra Matrice e Boiano. Hanno concesso senza contropartita a Trenitalia e Ferrovie dello Stato il raddoppio della linea ferroviaria a Lesina-Termoli. E ora, ironizza Di Giacomo, Fratture e Nani insieme al PD regionale piangono perché Trenitalia ha deciso di negare al Molise, unica regione su tutta la linea adriatica, la fermata del Frecciarossa a Termoli. Come parlamentare del Molise, di capogruppo di area popolare in Commissione Trasporti al Senato, ho già sottoposto ai vertici di Trenitalia la questione per tentare di rimediare. E su Facebook restiamo in tema. Un cittadino, un giovane, ha avviato una raccolta firme per chiedere la fermata a Termoli del Frecciarossa che dal 20 settembre coprirà la tratta Milano-Bari. E in tanti rispondono all'appello e nel frattempo in Puglia lanciano un'altra petizione. Sentiamo Manuela Iorio. La protesta corre sul web e nasce su Facebook la petizione per ottenere la fermata dei Frecciarossa in Molise, l'unica regione che i convogli superveloci di Trenitalia salteranno nel loro tragitto. Si chiama Facciamo fermare il Frecciarossa anche a Termoli, aiutiamo il Molise. E oltre alla raccolta firme è stato creato un evento a cui partecipare per il 30 settembre. Si devono raggiungere almeno 5.000 sottoscrizioni e finora ne sono state raccolte qualche centinaio. Nella petizione aperta da un giovane cittadino, Stefano Gioia, c'è una lettera indirizzata al Presidente e all'amministratore delegato di Trenitalia e al Ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, in cui si fa notare che la mancata fermata del Frecciarossa, oltre a essere penalizzante per lo sviluppo economico e turistico, lo è anche per i pendolari della regione, già costretti a fare i conti con tanti disagi. Viene posta inoltre l'attenzione sulla lunghezza del tragitto Pescara-Foggia, quasi 180 chilometri, e che risulta il più lungo senza fermate intermedie. Lo stop a Termoli, proprio a metà strada, per Trenitalia significherebbe la perdita di qualche minuto sulla tabella di marcia, ma per il Molise invece significherebbe tanto. Insomma, i molisani non l'hanno presa bene a essere nuovamente trattati come cittadini di serie B. Poco importa se le scelte di Trenitalia sono state fatte in base anche a criteri di domanda potenziale e di offerta già esistenti. Non si può accettare un'esclusione così, come se sulla cartina geografica il Molise non ci fosse. La politica, anche se con forte ritardo, ha già annunciato battaglia. Intanto, dal 20 settembre, la nuova linea Milano-Bari partirà regolarmente, senza far tappa in Molise, con un risparmio di un'ora sui tempi di percorrenza classici, mentre parallelamente, anche in Puglia, è stata avviata una petizione per allungare la tratta del Frecciarossa fino a Lecce. Anche il Salento non vuole essere tagliato fuori, ma questa è un'altra storia. E lasciamo l'informazione, andiamo alla rassegna stampa. Marco Presutti, dalla regia, inquadra il giornale del Molise.it, sanità in agonia, medici e infermieri in corsia con il lutto. È questa la sanità di frattura. La sanità pubblica malata sta morendo di una lenta agonia, scrive Anna Maria Di Matteo. Gli operatori del settore hanno lavorato con il bottone nero sul camice in segno di lutto, un simbolo per ricordare lo stato in cui sono finiti gli ospedali molisani. Avete sentito anche il servizio di Anna Maria Di Matteo. Frontale sulla strada per Guglionesi, 5 romeni in ospedale, poi a Pozzilli, malattie cardiovascolari, le ultime scoperte su trombosi e coagulazione del sangue. Settembre Sernino salvato dai commercianti e associazioni. E tra gli editoriali vi ricordiamo Villa Frattura sul mare, il presidente perde la causa ma l'affittuaria resta ancora fuori, misteri ed intrecci e grandi manovre. L'articolo affirma di Giovanni Minicozzi. Chiunque voglia leggerlo, il giornale del Molise.it. Gli altri quotidiani regionali, primo piano Molise, la città dei centri commerciali, partono i lavori a Parco dei Pini. Transennata l'area dove sorgerà un megastore, si riaccendono le polemiche per la nuova colata di cemento. L'intervento era stato bocciato dall'assise comunale di Campobasso. In alto incendio, rifiuti, cittadini, siamo preoccupati, attendiamo risposte dalle autorità, l'allarme ambientale a Pozzilli. La protesta a Termoli, la giunta sbrocca, rinnova l'incarico all'ex segretario, consigliere del Movimento 5 Stelle, si incatena davanti al municipio. Expo 2015 Molise, arriva una delegazione di buyers americani, la vetrina esclusiva per le aziende agroalimentari. A Termoli, medici e infermieri a lutto in corsia per la morte sulla sanità. Campobasso, finta rapina a mano armata, in quattro neguai per truffa, minacce e ricettazione di auto. E a Boiano, coltiva piantine di marijuana in casa, artigiano denunciato dai carabinieri. Vediamo lo sport. Lupi scatta la rincorsa alla Lega Pro, Isernia FC in trasferta a Mateli, Cagnone e Paolucci nella sua Chieti. Eccellenza, sorriso a Liffe con la Dauna, il Rocca Ravindola e Spugna, Sesto Campano. Torre Magliano, partenza col botto, brindano pure Guglionesi e Prata. Poi in Abruzzo, Pineto Vastese, Sapore di Vertice, San Salvo inizia a San Buceto. Andiamo al quotidiano del Molise, un piano Marshall per il Sud, Venitelli alla festa dell'Unità di Milano, anche il Molise dice sì. Urgenti nuove politiche di sviluppo per il mezzogiorno, situazione post bellica. Un frontale da brivido con due feriti e un'auto finita a gomme all'aria è accaduta al bivio tra Guglionesi e San Giacomo. Guardia reggia, va per funghi e si perde nei boschi, giovane rumeno ritrovato e salvato dal soccorso alpino. Vediamo ora le altre notizie in alto. Campobasso, la polizia scopre una clamorosa truffa a quattro ruote e poi resta in carcere il 68enne di Sepino che ha sparato al fratello, tentato omicidio ieri, interrogatorio in carcere a Campobasso. Rachele porta il Molise a Miss Italia, questo per l'angolo dello spettacolo, poi lo sport, Campobasso, c'è l'esordio previsto il grande pubblico, i Serni e Dagnone partono in trasferta. Andiamo a vedere la Gazzetta del Molise, e la Regione mette in ginocchio l'economia. Poi l'Oscar del giorno viene consegnato a Pasquale di Lena, il tapiro del giorno a Marinella d'Innocenzo. Futuro Molise, Antonio Di Pietro perde la causa con Libero, niente soldi e dovrà pagare le spese legali. Poi politica, la resa dei conti nel PD regionale, partendo dal comune di Isernia. Poi vediamo ancora indagini polizia, scoprono rete di raggiri tra Termoli e Campobasso, truffa e ricettazione auto, quattro denunciati. A Isernia, Fantozzi, Grande Sud, crisi voluta da un regista occulto. La stampa nazionale, il Corriere della Sera, porte aperte, applausi ai profughi, l'accoglienza in Austria e Germania, Merkel, nessun limite all'asilo, chiesto un vertice europeo, un neonato morto nella traversata tra Turchia e Grecia, guerra in Siria, le mosse di Russia e Francia. E poi Renzi, le imprese cambino, l'Italia ha agganciato l'Unione Europea, sfida i soldi buoni alla minoranza PD. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere l'apertura di Repubblica, profughi, Merkel apre le frontiere, migliaia in Germania, benvenuti all'arrivo a Monaco, accolti da applausi e inno alla gioia, presto un vertice a Bruxelles. Renzi alle imprese basta alibi e promette la riforma dei TAR a Cernobbio, tornati nel gruppo di testa dell'Unione Europea. Andiamo all'apertura della stampa, la Germania apre le frontiere, Merkel, asilo ai profughi senza limiti, poi precisa, le regole di Dublino restano valide. Anche l'Austria fa entrare le migliaia di persone in fuga dalla Siria, stati uniti in allarme per gli aiuti russi ad Assad. Camusso elegge sindacati, coppia e partiti, norme ad hoc sulle pensioni. Elisabetta la regina dei record, mercoledì supererà vittoria e sarà la sovrana più longeva d'Inghilterra. Andiamo a vedere l'apertura del fatto quotidiano, gli industriali si inchinano a Renzi e riotta pure. Un bel applauso, scene da ventennio al forum di Cernobbio, bomba 6, Matteo, meglio di Berlusconi. Politica, Europa e TV, idee per un paese in crisi. Dal fatto quotidiano andiamo al tempo. Cari politici italiani sui migranti fate come lui. Il premier finlandese ospita profughi in casa sua. Grasso, Boldrini, Renzi, Alfano, Zingaretti e Marino lo farebbero, si chiede il tempo. Le bombe radioattive sparse nel paese, ci sono 23 siti per lo smaltimento di scorie disseminati sul territorio italiano. Dal tempo andiamo a vedere avvenire la lezione tedesca. A Monaco, siriani accolti con doni e inno europeo, ma l'Ungheria sbarra le porte e prepara l'esercito. Austria e Germania aprono le frontiere, i profughi in cammino nei Balcani. Merkel, non mettiamo limiti. Mattarella, serve l'asilo europeo. Politica, IVA, super evasione. Renzi fuori dalla crisi. Lo studio dell'Unione Europea mette sotto accusa l'Italia e il premier risponde, le tasse possono scendere. Marihuana libera e gli Stati Uniti si trovano invasi dall'eroina. 8.000 morti per overdose, 700.000 i consumatori. Andiamo all'apertura di Libero. La guerra tra i due papi, scontro in Vaticano, famiglia, emigrati, etica. Al prossimo sinodo Francesco vuole cambiare tutto, ma in Europa e in Africa cresce il fronte dei cardinali anti Bergoglio e Ratzinger. Elogia un leader dei ribelli. Travaglio prende i soldi e poi fa lo schizzinoso. Questo era Libero. Andiamo ora a vedere l'apertura del secolo d'Italia. Germania e Austria, sì, al passaggio dei migranti, ma non ci sarà un bis. E andiamo a concludere con le notizie sportive. La Gazzetta Sportiva, GP d'Italia, Sogno Rosso, Hamilton in pole, ma Ferrari vicinissime con Raikkonen, e Vettel, Caro Lewis vinciamo noi, Marchionne passi avanti al top nel 2016, Eccleston a Monza e Monza, ecco i retroscena. Italia, Conte cambia, Ali, Insigne e Candreva contro la Bulgaria. Poi vediamo qui sulla destra, Gallo non basta, la Turchia ferma, Little Basket e Super Fognini che rimonta con Nadal. Gli stipendi della Serie A, De Rossi e Mancini, sono i più pagati. Questa era la Gazzetta Sportiva con cui concludiamo il nostro appuntamento della rassegna stampa del mattino. L'informazione di Telemolise torna alle 14. Grazie per averci seguito, buona domenica.